Loquis è la prima piattaforma al mondo di travel podcasting, lanciata in Italia nel 2020, ora disponibile anche in Spagna. Grazie all'applicazione gratuita per mobile, gli utenti di Loquis possono conoscere e visitare i luoghi in maniera divertente e arricchita. Ogni canale propone un modo diverso di scoprire le storie dei luoghi. È possibile ripercorrere le località dei personaggi famosi, degli eventi storici, dei crimini noir, scoprire i locali più alla moda, i vitigni pregiati, i sentieri nascosti e avventurosi. Tra tutti, i canali dedicati al cineturismo sono quelli più seguiti e apprezzati, perché permettono a chi li ascolta di scoprire le location dei film e delle fiction più famose. Il ponte ferroviario di Glenfinnan. È un viadotto ferroviario che sorge circa a metà della pittoresca linea West Island Railway tra Fort William e Malague, nell'Invernessia. Situato nella parte superiore del Loch Shield, nelle Highlands. Ci siamo, siete a punta secca, la marinella di Andrea Camilleri. Se siete veri fan del commissario Montalbano, l'emozione di vedere per la prima volta la terrazza e la spiaggia più famosa della televisione. Famosissima la scena in cui un giorno, suggestionato da un film americano, Nando sale sulla più alta parete del Colosseo e dichiara che si lancerà nel vuoto se non gli promettono di mandarlo in America.